Allora, l'intervista doppia non riusciamo a farla forse Federico, insomma, allora adesso la spostizione non c'è più, tanto Roberto Marzano la spostizione non c'è più, quindi intervista da fare stagione è finita, ma che stagione difficile e che stagione strana poi? Allora, la stagione è partita, era partita non tanto bene e poi insomma tutte le cose che sono successe durante l'anno hanno fortificato comunque sia anche il gruppo Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, una giornata d'anticipo e alla fine era quello che volevamo con tanta sofferenza, però ce l'abbiamo fatta Tu che programmi hai per il prossimo anno? Già ci stai pensando oppure pensi su tanti allenanti oggi? No, penso ogni giorno e passa e basta, poi ora intanto pensavo subito un'altra volta domenica e poi appena finisce il campionato e lo poi si parlerà Anche perché vorrei mi continuare a giocare anche te No, perché insomma l'età di cominciare Ma c'è tanti campionati a materiali Ci si penserà, dai, ci si penserà C'è tante squadre, quello lì sì, però si penserà a quello ancora Ascolto Fede, c'è Roberto che vi ha accompagnato tutta la stagione Insomma, diciamo che lo ha fatto bene o lo ha fatto male? L'altro non ci ha scoperto No, no, che l'ha fatto bene Insomma anche lui l'ha vissuto tante qua a Filline dall'era dove quando c'eravamo io, Emi, Sancho Qualunque persona che sono state qua a Filline tutti questi anni Che l'abbiamo passato di cotte e di crude E merita anche di loro, merito di tutti Di questa salvezza e di qualunque persona all'interno qua del Filline Che ha sempre sostenuto questo progetto Roberto, non facciamo più a dire calcio perché Emiliano ormai ci ha sbugiardato Però insomma, tanti ragazzi che ormai hanno dato tanto a Filline Comunque che hanno dato tanto a Filline Sì, è vero, però ricordo il primo giorno che arrivò Federico allo stadio Con i genitori, la fidanzatina Ora, quanti anni sono passati? Eh, sono passati nove anni, otto anni, nove anni Calcolando la fidanzatina non c'è più C'è una moglie di Filline Quindi la fidanzatina la cancelliamo? L'ho cancellata subito Quindi c'è una moglie qua di Filline E sono passata, l'ho vista tante, l'ho vista qua a Filline Tanti periodi Cosa ne hai viste tante? No, no, non ho viste tante a livello calcistico Fortunatamente qua a Filline di belle e di brutte Però tornare sempre comunque qua a Filline e tutto Sì, e sempre giocare in questo stadio e tutto E rincontrare sempre persone come Roberto, come Sancio, come Patrizia Ma come Lita, come Slamis, ma come tantissime altre persone Come Guaglio, come il Nenci, è entrato ora Tocca nominarlo per forza E quindi è veramente bello E speriamo, beh, quello poi speriamo di continuare questo progetto Ma questo non dipenderà a me assolutamente Vabbè, il capitano non ci lascerà Sono convinto, dai L'ho vista arrivare il ragazzino e è diventato capitano Ora è il più anziano di tutti Insomma, ora ha delle grosse responsabilità sulle spalle Prima doveva prendere esempio Ora lo deve dare E adesso bisogna fare una cosa Ha fatto l'addio al calcio Emiliano Frediani Bisogna togliergli il pallone Emiliano Frediani Perché almeno smette E poi, insomma, vediamo cosa succederà il prossimo anno No, no, e vabbè Emiliano Emiliano, parlate con lui di questa cosa A me Io c'era l'addio Ho fatto la partita d'addio E di sì, va bene Emiliano Perfetto In bocca al lupo Per essere direttore E tutto Invece quando si è rimesso le scarpe L'avevo promesso che le lavavo sempre le scarpe Se iniziava a giocare E... Non gliel'hai lavato Non l'ho lavato perché l'ho fatto Era un ragazzino Però mi è toccato Insomma Mi è toccato quasi lavare davvero E comunque sia Complimenti a Emiliano Che ci ha dato a parte una grossa mano E se anche lui comunque sia messo in gioco Insomma, è una situazione Non è l'on